Ho capito che è tutto buono, buono. Senti Tony, qualcuno mette, ma quanti anni ha Tony, diciamolo che è? Non siamo da... 61 anni. No! Dimmi la verità, poi diciamo quanti anni che sta il Tony. Ne ho 80 e 10 giorni. 80 e 10 giorni. Sono vinto a Simone organizzando una festa di compiato a sorpresa. E da quanti anni sta il Tony? Io che frequento il Filadelfia, è da 50, sarebbero 63 anni. Sì, aspetta, perché Tony, facciamo un passo indietro, cominciamo da suo fratello. Mio fratello mi ha fatto 37 anni di magazziniera. E io quando finivo a lavorare in fabbrica, andavo al Filadelfia, al pomeriggio, e neanche mi fermavo a carla, perché mi tiravo... Il Filadelfia era a casa, la racconto a carla.